Nicolò Savona, contro il Cagliari è arrivata una sconfitta maturata proprio all'ultimo secondo. È stata più forte la delusione per il risultato o la voglia di voltare pagina al più presto? Di certo la delusione è stata tanta perché abbiamo preso un gol proprio all'ultimo respiro e più che altro non ce l'aspettavamo. Adesso dobbiamo cercare subito di voltare pagina sin dalla prossima partita contro l'Atalanta, cercare di far meglio e essere sempre pronti e riattivi sul pezzo. Domani, come dicevi, vi attende una trasferta impegnativa sul campo dei campioni in carica dell'Atalanta. Come avete vissuto la settimana di avvicinamento a questo match? Siamo preparati molto bene, l'attesa è sempre la stessa e cerchiamo di far sempre del nostro meglio. Non dobbiamo farci influenzare dall'avversario ma entrare sempre in campo decisi e determinati come sappiamo fare. Al di là della sconfitta, lunedì hai vissuto una giornata memorabile con la tua prima presenza in Primavera 1. Quali emozioni hai provato ad esordire in un campionato così prestigioso? È stata una bellissima emozione, aspettavo questo momento da tanto e finalmente è arrivato. Arrivare fin qua per me è già un piccolo traguardo ma devo pensare a far bene per continuare ad andare avanti su questa strada. L'anno scorso nelle giovanili della Juventus hai esordito anche in un match di UEFA Youth League. Che ricordi conservi di quel debutto? È stata di certo una bellissima partita esordire in UEFA Youth League, è stata un'emozione grandissima. Giocare soprattutto con i più grandi, io ero abituato a giocare con i miei coetanei della mia età e entrare in campo con magari persone avversarie che erano di due o tre anni più grandi di me è stata una bellissima esperienza. I ritmi erano molto alti mi ricordo e, ripeto, esperienze indimenticabili. È la tua prima stagione in Biancazzurro. Come hai vissuto l'impatto con la società SPAL e la città di Ferrara e come ti trovi? Sì, il mio primo anno qua alla SPAL mi trovo molto bene sia con i compagni che con lo staff. Mi hanno subito accolto in maniera splendida. La città è molto bella, mi trovo molto bene qua a mio agio e spero di continuare così al mio meglio. Sei uno dei più giovani calciatori della Rosa a disposizione di Mister Scurto. Qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione? Sì, il mio obiettivo personale è quello di aiutare sempre la squadra. Quando sono chiamato in caso di dare sempre il mio meglio e di dare il contributo massimale sempre per la squadra. Il campionato si sta rivelando molto equilibrato, con tanti impegni ravvicinati e una classifica molto corta. Dove pensi possa arrivare questa SPAL? Allora, il nostro obiettivo rimane comunque sempre la salvezza. Siamo una squadra, secondo me, forte che possiamo giocarcela anche per le prime posizioni. Stiamo facendo bene e nonostante noi abbiamo, come anche gli altri, molti impegni ravvicinati, cerchiamo sempre di dare il nostro massimo partita dopo partita. Grazie per la visione!